Ciao, oggi 13 dicembre 2014 inizia il Firma Day, iniziamo a raccogliere in tutta Italia le firme per poter presentare il referendum consultivo che consentirà agli italiani di esprimersi in merito alla permanenza o meno nell'euro. Quando siamo entrati nell'area euro nessuno ci ha chiesto se fossimo d'accordo o meno, noi vorremmo restituire agli italiani questa possibilità, la possibilità di esprimersi in merito e di far sapere al nostro legislatore come la pensiamo della moneta unica. Venite a firmare, abbiamo sei mesi di tempo, ti aspettiamo! Grazie a tutti!